Benvenuti in volta da OptiTube Channel, l'opera YouTube YouTube italiana oggi parliamo di tecniche di illuminazione con lampi slits come ti ho promesso quindi cominciamo dall'optica Con questa tecnica, molto utente, possiamo evalurare la cornea in sua forma, la profondità e la trasparenza ma possiamo anche evalurare altre strutture o strutture, come la lente, l'anteriore o l'angolo ilidocorneale quindi quando facciamo questa tecnica, dobbiamo usare un slits molto forte, la magnificazione di 16 a 25 a 40 una illuminazione più alta e gli angoli di 30 a 60 a 30 a 60 quindi cominciamo a concentrare la cornea e possiamo ridurre ora la magnificazione a 10 a 16 volte e muovere la parte laterale per studiare la forma della cornea e la sua regularità e con questa tecnica, possiamo notare una non regularità nella cornea per esempio quando abbiamo la keratoconus, la PMD o la cornea post-chirurgica cambiando l'angolo tra l'osservazione che resta nella posizione primaria muovendo da 50 o 60 gradi a 30 o 20 gradi possiamo evalurare la lente nella sua trasparenza e possiamo anche evalurare la sua superficie poi possiamo evalurare l'anteriore, se ci sono obiettivi e se c'è un effetto tindale e poi possiamo anche evalurare l'angolo ilidocorneale per le tecniche di Fonheric per fare un'optica con un angolo di 60 gradi l'optica è una tecnica molto utile per fare una prima evalurazione della cornea ma ci sono anche altre tecniche che possiamo vedere nel prossimo video quindi è over anche per questo video lasciate molti like e abbiate a questo canale seguite la pagina Facebook, Instagram e la pagina merchandising e vediamo al prossimo video OptoStyle